Ciao a tutti, ciao a tutti cari amici del canale YouTube, ben ritrovati ancora, buona domenica, un caro saluto a tutti voi, spero che stiate bene. Il Milan ieri ha vinto, quindi sicuramente il tifoso del Milan deve essere contento, poi ovvio si può discutere sulla qualità del gioco, si può discutere sul fatto che il Milan abbia comunque ancora tanti problemi da risolvere, da migliorare, soprattutto la cosa importante sarebbe recuperare qualche giocatore fondamentale. Infatti per la partita contro il Borussia Dortmund in programma, dopo domani, martedì sera a San Siro, il Milan ritrova sia l'off-to-cheek dal primo minuto, immaginiamo, ma anche Olivier Giroud. E sono comunque due rientri fondamentali dal primo minuto, la squadra assume sicuramente tutt'altro aspetto, perché comunque un centrocampo con Loftus e Reinders, poi un attacco con Pulisic e Giroud, vediamo Ciukueze se riesce a sbloccarsi, ma l'ultimo Ciukueze non è che è piaciuto tanto, però comunque è un attacco sicuramente diverso. Mancherà Raffaleau, non ci sarà, purtroppo non recupera l'attaccante portoghese per la partita contro il Borussia Dortmund, però speriamo che il Milan possa tirar fuori una bella prestazione in stile Paris Saint-Germain. Sarebbe fondamentale per l'ambiente, per lo stadio anche, perché ieri la partita contro la Fiorentina non abbiamo visto e vissuto e percepito il solito stadio San Siro, nonostante c'erano oltre 72 mila spettatori presenti. Vi do anche qualche informazione di servizio, perché domani parla Stefano Pioli in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Borussia Dortmund alle ore 14, mentre alle ore 11 ci sarà il consueto allenamento della vigilia. Lì capiremo magari se ci saranno dei recuperi, ma difficilmente ce ne saranno, perché, come dicevo, Raffaleau non prenderà parte alla partita e non giocherà, per esempio questa è un'altra cosa che possiamo aggiungere, non potrà essere convocato nemmeno Camarda perché nell'ultima partita con la maglia del Primavera, quindi in Youth League, era stato espulso, quindi squalificato e non potrà essere convocato con la prima squadra nel match contro il Borussia Dortmund. Ma ragazzi, ieri sapete che Mike Mignan ha giocato con la Viola, con la squadra di Vincenzo Italiano, con la febbre a 38? Sapete che il portiere francese del Milan ha giocato febbricitante e nonostante questo è il risultato decisivo ai fini della vittoria, del successo dei rossonieri. C'è da applaudire questo portiere, c'è da applaudire quest'uomo che comunque ha stretto i denti e è sceso in campo perché c'era bisogno di un leader come lui, con l'assenza tra l'altro di Leao e di Giroud, non poteva alzare bandiera bianca. Mignan è che con grande senso di responsabilità nei confronti dei tifosi, nei confronti della squadra, della società, è sceso ugualmente in campo con la febbre e ha fatto anche almeno due o tre interventi miracolosi. Quello a inizio secondo tempo, se non sbaglio era il cinquantesimo, quando in uscita bassa ha frenato, neutralizzato il tentativo di Beltran e poi la parata di faccia diviso su Mandragora, quella è una parata che vale tre punti, quella è una parata che vale tantissimo, che tiene il Milan in vantaggio nel pieno recupero, era il novantaquattresimo, novantacinquesimo, quindi sono interventi decisivi, miracolosi, fatti anche con l'istinto di un grande portiere, ma di un giocatore che si è comunque voluto sacrificare per il Milan perché tiene alla maglia. Parliamo di un ragazzo che comunque è sceso in campo con la febbre, questa cosa il Milan naturalmente non l'aveva comunicata prima della partita, non c'era stato detto nulla sulla settimana difficile di Mignan, della sua febbre, però alla fine la cosa si è scoperta ugualmente, è uscita fuori ugualmente, quindi straordinario, straordinario Mike Mignan. Così come sono straordinarie per un altro verso le lacrime della mamma di Francesco Camarda, c'è un video che gira in rete, che gira sui social della mamma di Francesco Camarda, che insieme al papà erano ieri presenti ovviamente allo stadio San Siro per guardare l'esordio del proprio figlio. È emozionante, davvero emozionante. Mettetevi nei panni di questi genitori che fanno sacrifici, mandano il figlio, accompagno il figlio ogni giorno agli allenamenti, fanno Milano-Milanello-Milanello-Milano tutti i giorni. E poi a 15 anni vedono il proprio bambino, perché è ancora un bambino esordire a San Siro, davanti a 73 mila spettatori, con la curva che incita e urla il nome di Francesco Camarda, lo speaker che annuncia lo storico esordio di Camarda e la mamma che piange, che si commuove, che porta le mani davanti agli occhi, al volto per non farsi vedere, il papà sorride, insomma, delle scene bellissime. Ovviamente è il sogno di qualsiasi bambino tifoso del Milan esordire con la maglia del Milan. E poi Francesco Camarda ha fatto un post, un post di ringraziamento. ha detto, cosa dire, è stata una serata indimenticabile. Ha detto, ho un'altra casa, ora ho sicuramente un'altra casa. Ovviamente si riferiva a San Siro, perché Francesco Camarda sappiamo che è tifoso del Milan e quindi abbiamo vissuto insieme a lui un momento storico, un momento bello. Con questo video non vogliamo mettere pressione a Francesco Camarda, è l'ultima cosa che vogliamo. Vogliamo semplicemente gioire insieme a lui, vogliamo semplicemente essere felice per lui. Perché indipendentemente dal risultato, indipendentemente dalla corsa in campionato, il calcio è anche questo, il calcio è gioia, il calcio vuol dire emozioni, emozionarsi. E vedere un ragazzo di 15 anni che è sempre stato tifoso del Milan, nato a Milano e col sogno, con l'obiettivo di fare quell'esordio a San Siro, siamo tutti davvero molto contenti per lui. Poi fare il suo percorso, un percorso che non sarà facile, perché ora avrà un po' più gli occhi addosso, però io sono sicuro che la famiglia, la squadra, lui stesso, perché è un ragazzo intelligente, aiuteranno Francesco Camarda, soprattutto chi sta attorno al giocatore. Domani quindi vigilia, domani vigilia, il Milan recupera un po' di pezzi, ipotizzando una probabile formazione, sperando che Mike Mignan scende in campo, nonostante la febbre avuta contro la Fiorentina, ipotizziamo un 4-3-3 con Mike Mignan a punta in porta, con Calabria, Malik Chao, Tomori e Teo Hernandez, a centrocampo Reinders con Kroenic e Loftucic, in attacco Ciukueze, Olivier Giroud e Pulisic. Dovrebbe e potrebbe essere questa la probabile formazione del Milan, anche perché non ci sarà Musa per squalifica, non ci sarà Romero che non è stato inserito nella lista UEFA, non ci sarà appunto lo stesso Camarda, Jovic diventerà quindi l'unica soluzione dalla panchina per Stefano Pioli, visto che mancherà anche Okafor all'appuntamento contro i tedeschi, gara decisiva e importante, servirà la carica di tutto San Siro per aiutare il Miano, proprio come era successo contro il Paris Saint-Germain qualche giorno fa. Ragazzi, come sempre, vi invito ad iscrivervi al canale, iscrivetevi in tanti, è importante davvero, quindi mettete like, attivate la campanella e iscrivetevi. Grazie ancora a tutti, ciao!